Prova a difendersi Francesco Schettino. Il capitano della Costa Concordia ha intavolato un serrato dibattito con i periti del Tribunale sulle manovre adottate prima e dopo l'impatto con gli scogli di fronte all'Isola del Giglio. L'ex capitano ha chiesto la parola nel corso della quarta udienza del processo in corso a Grosseto per sfigare la decisione di procedere con lo scodinzolo, una rapida successione di virate per disimpegnare la prua quando si accorse dell'errore di rotta. La compagnia ha negato ogni corresponsabilità ma è proprio sull'armatore che puntano il dito le vittime. In udienza si è verificato anche un battimecco tra un avvocato dei naufraghi e il legale della compagnia. L'udienza è stata poi sospesa per la notte.